bella a tutti ragazzi bentornati sul mio canale bentornati con il classico appuntamento settimanale proprio quanto riguarda le sfide del post battaglia di fortnite a breve usciranno le sfide della settimana numero 2 ed una di queste sfide dovrebbe riguardare il visitare delle aree danneggiate cosa sono queste aree danneggiate queste aree danneggiate sono quelle aree con il simbolo che il cubo ha lasciato la scorsa stagione quindi una volta aperta la mappa potrete notare che sopra di essa ci sono sette aree con sette simboli quelle ragazzi sono le aree danneggiate come sempre dovrete atterrare sopra ed una volta atterrati su ognuna di queste aree potrete vedere l'avanzare della sfida come sempre spero che questo video vi sia stato utile mi raccomando ragazzi lasciate un bel like con un commento quando usciranno le sfide fatemi sapere cosa ne pensate condividete il video per aiutare la community iscrivetevi al canale per non perdere tante altre guide e tanti altri giochi ed infine ragazzi come sempre in descrizione lascio del link di una pagina facebook qui ragazzi potrete trovare persone con cui giocare a qualsiasi ora del giorno a qualsiasi ora della notte potete condividere video clip e curiosità quindi passate ed iscrivetevi anche su quella pagina e come sempre io vi ringrazio la visione ci vediamo nel prossimo video Grazie a tutti